Vedete anche come ricevo la palla, io sono Matteo, vedete che io mi allargo col corpo e poi la passo là, perché se faccio così invece, guarda, passa, se faccio così, mi giro e la passo, passa molto tempo, se invece, guarda, io, guarda, apro il corpo, apro il corpo qua e ce la passo, è più facile, va bene? Sì, pronti? Pronto? Pronti? Attenzione, via! Bravissimi, bravi, vai, controlla, via Matteo, controllo e passaggio, bravo, Matteo, spettacolo, spettacolo da Nappa Valle, Bravo! Questa, questa, questa è il disco! Uno, due, due! Veloce! Vai, vai, vai veloce Matteo! Trollo e passaggio, trollo e passaggio! Aspetta, 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 ho avuto, ho avuto!